Ciao raga, benvenuti in un mio nuovo video. Questa sera sono in notturna, come vedete ho un po' l'illuminazione un po' scura dietro di me perché nel frattempo si è fatto notte. Ebbene, oggi parliamo un po' di sicurezza domestica. Ormai la mia casa sta diventando tutta smart pian pianino. Grazie soprattutto a un brand che si chiama Ezwitz. Beh, grazie a loro ho installato le telecamere che avete già visto in qualche video. Grazie a loro ho installato il vecchio citofono e sto aspettando il nuovo citofono. E tra le varie cose mi mancava una serratura smart. Ne avevo provato altra in passato, ma Ezwitz ha deciso di mandarmi la sua smart lock kit. Eccola qua, ve la faccio vedere. Ovviamente dentro non c'è più niente perché, o meglio, ci sono qualche accessorio che mi ha avanzato perché l'ho già installata alla porta d'ingresso. Ebbene sì, vi dicevo, la smart lock kit, raga, perché l'ho installata? Perché è una roba comodissima, davvero comodo poter sbloccare la porta di casa sia a distanza, perciò sta avvenendo l'amico, sta avvenendo il genitore, sta avvenendo il fratello che non hanno le chiave di accesso all'abitazione, mi telefonano e io a distanza riesco attraverso l'applicazione di Ezwitz ad aprirli la porta di casa. Peraltro mi hanno anche inviato il blocchetto numerico che serve proprio a non utilizzare né il telefono, né l'applicazione, né le chiavi, né nessun altro aggeggio, solo il dispositivo numerico, perciò ho impostato la mia password, premo un tasto e la porta si apre in automatico. Molto comodo soprattutto quando torni a casa con la spesa in mano, piuttosto che con i bambini, piuttosto che con persone, comunque vai di fretta, apri e chiudi, vai lì, codice, ta 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 ta, e la serratura si apre. Bene, il dispositivo con numerico serve anche, funge anche da campanello, perché premendo il bottone centrale, ebbene suona, suona all'interno dell'abitazione, in modo tale che noi possiamo andare a sentire se qualcuno ha suonato anche a casa. Molto molto comodo. Installazione molto semplice, molto semplice ragazzi, l'ho fatta io che sono impedito con queste cose, Andrade 6x7Lab lo sa benissimo, sono davvero impedito, sono andato lì col mio cacciavitino e sono andato a togliere la vecchia smart lock e installare la nuova smart lock kit di Edzwitz. Mi sto trovando tantissimo bene, l'ho installata prima di Natale, l'ho usata durante le vacanze, peraltro a Matteo serviva qualcosa del mio studio e l'ho aperto a distanza casa, mentre ero in Puglia, perciò a 1200 km. Questo grazie all'Home Gateway, che è un altro dispositivo bianco che ho installato anche lì in casa, dove fa interfacciare la serratura smart alla connessione wireless di casa. Questo rende il tutto super super smart. Dunque mi permette di aprire a distanza, di fungere da citofono, mi permette di avere prontezza se la serratura è stata aperta da qualcuno, se è stata forzata, se la porta è stata aperta, perché ovviamente fa anche da sensore per la porta d'ingresso, molto molto comodo. Come potete vedere ha un tastino posizionato sopra la smart lock che permette dall'interno di chiudere o aprire appunto la serratura. Questo serve affinché non utilizziamo più la chiave, non utilizziamo più la manovella, non utilizziamo più il telefono, insomma vai lì, premi il bottone e la serratura si chiude o si apre. Vi faccio vedere l'applicazione perché anche l'altra volta ve l'avevo fatta vedere con le telecamere, faccio il mio accesso col Face ID, ci sono tutte le mie telecamere, ma sotto vedete in altri dispositivi sia il gateway che è collegato alla rete wifi, sia la smart lock, in questo caso è sbloccata perché a casa ci siamo noi e dunque è sbloccata. Se volessi chiuderlo, aprirlo, lo posso fare benissimo dall'applicazione. Dunque raga, se siete amanti tecnologia, se state anche voi rendendo la vostra casa smart, non potete non avere una serratura smart. E quella di Edgewitz è una tra le migliori mi raccomando, andate sul sito, potete acquistarla anche da Amazon e funziona davvero bene. Ovviamente altra chicca dell'applicazione è che potete dare la possibilità a chiunque di accedere a casa tramite appunto le applicazioni, i permessi, gli ospiti, la sezione ospiti, insomma potete fare davvero quello che volete tramite applicazione. Raga, io vi invito a seguirmi, se non avete ancora attivato la campagna, attivatela perché ci saranno tanti nuovi contenuti, come sempre quando mi arriva della roba interessante io ve la porto sul canale perché vi porto solo cose interessanti. Per il resto inizieranno un po' di short sulla Tesla, così vi faccio vedere un po' come sta andando questo primo periodo. E non mi resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Ciao raga!